... Lui ha guidato questa macchina, ha vinto tutto quello che c'era da vincere con questa automobile. Lui ha guidato questa macchina, ha vinto tutto quello che c'era. Lui ha guidato questa macchina, ha guidato questa macchina, ha guidato questa macchina. Questa è in realtà la versione Safari della Lancia Delta integrale. Eccola qua. Lui ha guidato questa macchina, ha guidato questa macchina. Lui ha guidato questa macchina, ha guidato questa macchina. 173. 173. 183. 183. 183. 183. 183. 193. 213. 213. 214. 214. 224. 226. 226. 217. 225. 227. Sipola con questa A310 V6 del 1978, vettura anche in rischio, no è qua il direttore. Sipola con questa A310 V6 del 2020, vettura anche in rischio. Sipola con questa A310 V6 del 2020, vettura anche in rischio. Sipola con questa A310 V6 del 2020, vettura anche in rischio. Sipola con questa A310 V6 del 2020, vettura anche in rischio. Sipola con questa A310 V6 del 2020, vettura anche in rischio. Sipola con questa A310 V6 del 2020, vettura anche in rischio.